Presidente nazionale di Ajace, Giuseppe Spartà, si avvicina un appuntamento importante, quello del 30 settembre, dei giorni attorno al 30 settembre per sollevare problematiche dal punto di vista dei commercialisti. Ecco, Ajace perché sostiene questa battaglia? Ma intanto perché Ajace sostiene tutte le battaglie dei consumatori. Gli imprenditori sono consumatori a loro volta, pertanto le battaglie dei consumatori e degli imprenditori diventano battaglie di Ajace. Noi abbiamo una struttura che è composta dalla maggior parte dei colleghi commercialisti, è una struttura a livello nazionale e siamo fortemente penalizzati dalle scelte del governo che pur avendo previsto da due anni i modelli ISA che sostituiscono gli studi del settore, solamente nell'ultimo periodo si sono messi a testare sulla nostra pelle questi software. Ci sono continue variazioni, non siamo nelle condizioni di dire ai consumatori e quindi alle imprese quali sono le imposte che secondo lo Stato dovrebbero pagare. In base alle diverse versioni ci sono diversi importi da pagare, quindi c'è uno stato di confusione terribile. Per questo le associazioni sindacali dei commercialisti hanno indetto uno sciopero per giorno 30, astenendosi dall'invio dei modelli F24 e successivamente dal presenziare le commissioni tributarie. Purtroppo non ce la facciamo più a vivere alla giornata senza poter pianificare il futuro delle aziende e quindi anche dell'Italia.